Io credo che faccia uno sbaglio, credo che in fondo voglia parlare con me. Scusi, ho altre tre interviste prima che la festa finisca. Ma questi non stanno lavorando a qualcosa che cambierà il mondo? Secondo loro sì. Sì, ma mentono. C'è un limite, perfino per la fantasia. Eletrasbordo umano, disgregazione molecolare, stallo e reintegrazione sono totalmente purificanti. Dove le nostre più grandi creazioni destano più profondi timori. Qualcosa è andato storto, quando l'hai fatto è successo qualcosa. Voi state per trovarvi oltre quel limite. Quegli strani peli che crescono sulla tua schiena io li ho fatti analizzare. Ma decisamente non sono umano. Se lo avessi visto, impaurito, arrabbiato, disperato, era... Anche il postatore dì di saperlo. No! Tu hai paura di venire distrutta e ricreata, non è vero? Stai cambiando, Seth. Tutto di te sta cambiando. Oh no, cosa mi succede? Sto morendo. Voglio sapere cosa sta accadendo. Che cosa vuole la malattia? Vuole trasformarmi in qualcos'altro. Oh no. Una mosca entrò nella telecapsula con me la prima volta, quando ero solo. Non tornare da lui, può essere contagioso. No! Ho paura! Non aver paura! No! Ho paura! Ho molta paura! Aiutatemi! Vi prego! Aiutatemi! Vi prego! Grazie a tutti.